Siamo contenti di aver cominciato bene questo turno di quarto di finale, venendo a cogliere una bella vittoria qui in Turchia, molto difficile. La squadra del Fenerbahce ha un potenziale d'attacco assurdo e siamo stati bravi lavorando molto bene a muro. Questo probabilmente già tolto un po' il ritmo in attacco ha permesso che commettessero anche qualche errore, ma credo che c'è molto nel nostro merito, che dopo un primo set dove eravamo troppo sotto il livello dei nostri avversari abbiamo provato ad accelerare un pochettino e questo ci ha rimesso in partita e ha creato qualche preoccupazione in più a noi. Benissimo per oggi, sappiamo e siamo pienamente consapevoli che per passare il turno servirà un'altra grossa prestazione in casa Novara e quindi adesso torniamo a casa e ci prepareremo anche per quella.